A me sembra di combattere veramente come in avvoltura, cioè di essere in prima linea nella prima guerra mondiale. Abbiamo leggermente più difese, però non c'è un comando sopra che ci dia delle indicazioni precise. Senta, visto che lei mi ha segnalato che ha febbre, tosse e mancamento di respiro. A livello quotidiano riceviamo circa 80-100 telefonate al giorno di persone che hanno effettivamente bisogno, di persone che sono in uno stato d'ansia, che hanno bisogno proprio di un aiuto sia dal punto di vista medico che dal punto di vista psicologico. Sono pazienti che continuano a dire ma la TS non mi chiama, ma cosa devo fare? E cosa faccio io? Posso uscire? Non posso uscire? Devo andare io a fare il tampone privato e no. E quindi i pazienti ne soffrono. Ieri ho passato praticamente tutto il giorno a parlare con pazienti che erano dei casi di coronavirus e proprio nell'ultimo periodo sono aumentati tantissimo. Allora, guardo solamente se hanno inserito il tuo nome. No, non hanno inserito un bel niente. Io ne ho 1.650 circa e a proposito di questo ho pareti persone in ostaggio perché non vengono chiamati per fare il tampone di guarigione. In questo momento le nostre segnalazioni, ma giustamente ammesso anche da TS, non hanno successo. Insomma, mi rendo conto che il numero è stato imprevisto, numero reale di cosa, però questa cosa ognuno di noi ce l'aspettava. Quindi sono rimasto stupito che non avessero pensato prima a una situazione di questo tipo. C'è un'altra criticità veramente molto importante che è la carenza dei medici di famiglia. Perché durante la prima ondata, al di là di quelli che purtroppo oggi non ci sono più, ma ci sono stati molti medici che hanno anticipato la pensione per paura di dover affrontare questa tipo di pandemia. E quindi abbiamo sempre meno medici. Mancano tanti medici di medicina generale. Io non sono l'unico del mio corso che attualmente sta ricoprendo questi incarichi di questo tipo. Io mi sono laureato il 16 ottobre del 2019, quindi è appena passato un anno, e sono entrato in servizio qui a Pioltello il 4 maggio. Noi abbiamo due priorità urgenti nella periferia, in un ambiente metropolitano di periferia. Identificare subito i contatti positivi. Seconda cosa, isolare tutti i positivi. A Milano, periferia, pochissimi possono isolarsi a casa solo. Solo chi ha una mega casa può isolarsi, solo il briatore può andare dalla Santa Chea a isolarsi. E quindi la TS o la regione deve occuparsi di avere questi posti, alberghi, in cui isolare i positivi, per poter impedire questa cosa. In realtà non viene fatta. Ora ho la sensazione che ci siamo di nuovo da capo. Mi sembra di vivere un film già visto. E non è un bel film. Grazie a tutti.